Oggi vi faccio vedere come si può caricare una vettura non Tesla a un supercharger. Allora, prendete la vostra app Tesla, la aprite, esce fuori la schermata, clicca il veicolo non Tesla, ci cliccate sopra, selezionate il supercharger disponibile, carica qui, selezionate il numeretto che trovate nella parte bassa del supercharger, selezionate e poi fate avvia ricarica e potrete staccare il tubo, che è suddiviso in CCS Combo, quindi ricarica veloce e ricarica lenta, staccate il tubo, lo inserite alla macchina e potete caricare. Grazie.